E questa, secondo me, è esattamente, caro Giovanni, la ragione per la quale dobbiamo essere prudenti. Cioè, il governo dice, mi pare di capire, cerchiamo di vedere i dati, ma non sono soltanto i dati dell'epidemia, sono anche i dati che le aziende regolatorie e quello che succede in giro per il mondo sta analizzando. Per cui non commettiamo l'errore del passato, riapriamo tutto indistintamente, perché è vero che ora la pandemia è sotto controllo, ed è sotto controllo grazie ai vaccini. Adesso rimane soltanto il professore che, come gli ultimi giapponesi, reduce ancora lì dentro a spiegarci che il Green Pass non funziona. Ma sono tutti i professori, il professor Mattei. Il professor Mattei troverà una nuova collocazione, ora siamo arrivati, è un climax, è un crescendo continuo, siamo al complotto globale, le banche, troveranno sempre qualcosa. Il dato di fatto è che grazie ai vaccini e al Green Pass questo studio bellissimo è tornato a popolarsi con delle persone che tengono rigorosamente la mascherina, ci darà fastidio a tutti noi quando andiamo dietro le quinte, però intanto siamo qua, vivi, a poter discutere, a poter ragionare. Il professore va in televisione, mentre nella Russia di Putin probabilmente il professor Mattei sarebbe in un carcere, per tornare a quello che parlavamo all'inizio, e per fortuna invece è qui a dire che Draghi fa gli interessi delle banche. E viva e viva la democrazia, potremmo dire, per richiudere il cerchio. Allora, allora, come ti dici la? Allora, 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 allora.